Musica Si sono concluse venerdì 22 novembre le sessioni di valutazione del concorso Fontina dal Pagio, l'iniziativa avviata dall'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali e dalla Chambre Valdotene per contribuire a valorizzare e promuovere la Fontina e per favorire l'impegno degli agricoltori e stimolarli nel conseguimento di obiettivi di qualità nella produzione di questo formaggio. Siamo partiti con questa attività coinvolgendo 67 produttori, da questi 67 produttori i nostri tecnici hanno scremato prima fino a 25 e poi con una serie di degustazioni mirate siamo arrivati alle 10 finaliste che oggi ci troviamo qua a degustare per l'ultima sezione di degustazioni che ha visto coinvolti circa 200 appassionati, amanti della Fontina che hanno coinvolto un po' tutte le categorie commerciali e produttive e i vari settori anche all'interno del settore alberghiero piuttosto che giornalistico in modo da avere una panoramica complessiva. Giovedì 28 novembre prossimo presso la granza del castello di Emavillo verranno premiati i vincitori del concorso. I 10 produttori finalisti sono Carla Abram, alpeggio Boregno di Valgrisange, Sandro Bonengia, vincitore del concorso nel 2011 dell'alpeggio Grosmodet di Gressan, la cooperativa agricole di Valgrisange, Aurelio Cretier, alpeggio La Comune de B di Hollomont, Piero Cuià, alpeggio Zublan di Hollomont, Elisio Duclos, alpeggio Pradarc di Saint-Rémy-Anbos, Elio Fogné, alpeggio Ramperein di Emaville, Piero Jocalla, alpeggio Tulle di Saint-Pierre, Enzo Marcò, alpeggio Vülmian di Saint-Pierre e Attilio Yeoia, alpeggio Maisonette di Avise. Le 10 fontine, grazie alla collaborazione della Chambre Valdotene, saranno messe in commercio a partire dai primi giorni di dicembre, in una confezione speciale a un prezzo che ne valorizzerà anche economicamente l'elevata qualità in 15 punti vendita dislocati su tutto il territorio regionale. L'obiettivo dichiarato dell'iniziativa è di veicolare un prodotto di eccellenza a fiore all'occhiello per l'intera Valle d'Aosta. È indispensabile che la fontina che esce dalle nostre casere sia di qualità eccellente, solo così si potrà pretendere dal commercio una giusta remunerazione, una giusta remunerazione che noi vedremo espletata dopo questo concorso con la vendita in 15 punti dislocati su tutta la valle che promuoveranno la fontina d'Alpage nel suo complesso e venderanno ad un prezzo estremamente interessante queste 10 prime classificate che daranno lustro a tutto il settore latero caseario valdostano. Negli alpeggi valdostani viene coltivata una delle tradizioni più antiche del patrimonio culturale della nostra regione. A quote anche molto elevate si trovano pascoli caratteristici delle zone alpine con fiori ed erbe che rendono unica la fontina. Il segreto di una fontina è difficile perché dovremmo stare qua ore e ore a spiegare. Sicuramente sono i dettagli che fanno una buona fontina. Quali sono questi dettagli? Sicuramente una fontina deve avere una bella crosta invietante di un bel marron che rappresenta le grosse cure in magazzino stagionatura. L'occhiatura deve essere bella, un bel giallo paglierino invitante, gli occhi di pernice, gli occhi della dolcezza e soprattutto in bocca deve essere dolce, leggermente sapita, fondente in bocca e con gli aromi che richiamano tutte le belle cose positive che i valdostani conoscono quando vanno in Alpeggio.